Il 18 giugno 2011 a Montegemoli, frazione del comune di Pomarance, nel Volterrano, si è inaugurata una manifestazione importante che coniuga mirabilmente l'arte e l'ambiente, la natura. La manifestazione si intitola Marte, è giunta la terza edizione, una manifestazione biennale che verrà presentata ai nostri telespettatori dalle due organizzatrici, da Marlene Mon e da Ursula Vettel, due signore tedesche che amano particolarmente la nostra regione, soprattutto questa parte della nostra regione all'interno della quale hanno incastonato le opere di 28 artisti selezionati fra italiani e europei che ora loro stesse ci presenteranno e poi ci guideranno alla scoperta delle suggestive location dove le installazioni saranno visibili fino al prossimo 18 luglio. Intanto spieghiamo il motivo per cui avete scelto Marte, cioè M apostrofo Arte. Sì, Marte vuol dire Montegemoli Arte perché il centro... Non c'è niente di guerresco di... No, il centro della manifestazione è in questo piccolo borgo che ha come caratteristica di avere 4-5 artisti abitanti per tutto l'anno oppure per periodi ricorrenti ogni anno, soprattutto l'estate. Noi, si parla di parte mia, Accademia Libera Natura e Cultura, siamo da 12 anni a Querceto e dal 2006 abbiamo aperto una sede a Montegemoli. Qui abbiamo trovato ospitalità in delle sale espositive che vedremo dopo, dove sono anche due installazioni. e abbiamo preso contatto con gli artisti del territorio, allagandosi anche sul Volterano e lì è cominciata questa avventura insieme alla Proloco. Che è rappresentata da Marlene Mon, altra tedesca che ha scelto questi luoghi, cinque anni fa se non ricordo. Con tuo marito sei arrivato qua e siete rimasti entusiasti di questo paesaggio, dell'antichità che raccoglie questo territorio, dell'ambiente e degli artisti che vi lavora. Sì, e soprattutto siamo entusiasti per la gente che vivono qui, che sono molto aperte per l'arte e loro aiutano ogni due anni, anche nel frattempo facciamo una mostra singolare, personale e aiutano per tutte le cose che noi bisogna. C'è una partecipazione diffusa, diciamo. Sì, che non si trova mai. Jacqueline Diffring è nata a Berlino, è scappata in Inghilterra per la guerra mondiale, per la guerra mondiale prima e ha lavorato alcuni anni in una fabbrica di pescatore per guadagnare la sua vita e lei ha già studiato prima arte a Berlino e dopo lei è andato, dopo un po' di anni, è andato alla scuola Ecclesia Art of School e ha lavorato e imparato soprattutto di Mac William e Scoop e il maestro importante era Henry Moore. Ora abbiamo Luca Serasini, artista di Pisa, che partecipa per la terza volta a Marte e da almeno quattro anni lavora prevalentemente sul rosso. I rossi sono questi tori alle nostre spalle, quindi ci devi spiegare il motivo della scelta del rosso e poi il perché di questo tema monocorde, quello del toro. Innanzitutto i tori, anche se sembrano un po' spagnoli, derivano per la mia ricerca dai tori cretesi, quindi è una ricerca che si basa soprattutto sulla mitologia, cosa che sono molto appassionato. Poi i tori derivano a sfrutto gli appuntamenti di Marte per realizzare dei lavori che altrimenti non farei e questi sono, come gli aquiloni due anni fa, la riproposizione in scultura, in 3D, diciamo, di ciò che dipingo. Dipingo prevalentemente anche tori, per cui questa volta ho fatto questa maglia di tori che normalmente faccio in pittura. Il rosso è, diciamo, un rafforzativo della propulsione della potenza che una maglia di tori dà a di per sé. Marlene e Ursula hanno utilizzato un altro scorcio completamente verde di Montegemoli per altre installazioni, ma prima di far presentare a loro le installazioni vorrei ricordarvi che questo giardino si chiama Giardino di Bella degli Abati. Bella degli Abati era la mamma di Dante Alighieri e proprio da questo paese e si trasferì poi a Firenze dove nacque Dante Alighieri, cioè il più grande poeta di tutti i tempi, ma chiamarlo poeta è molto, molto riduttivo perché, diciamo, uno dei geni del mondo di tutti i tempi. Allora, come avete scoperto questo giardino? Questo giardino è allestito dalla Proloco e dagli abitanti di Montegemoli da tre anni, tra i quattro anni, ha proprio avuto questo nome, c'è la fontana, e per i Montegemolini anche Dante ovviamente è nato in casa dei nonni e non a Firenze, ma i ferentini non saranno d'accordo. Qui in questo giardino sono fatti, è postato tre artisti uno, la musica è di Michael Denhoff, un compositore contemporaneo che viene da vicino di Colonia, questo è Wolfgang Überhorst, e il terzo è Bivi Köppel. In un giardino privato di Montegemoli sono ospitate le opere dell'artista milanese Silvana Pinkolini che però trascorre lunghi periodi dell'anno nel territorio, nel Grossetano. Nel Grossetano milanese, si è sposto nel sud e di casa ceramista che ora come artista di installativa si occupa soprattutto e quello lo vuole anche il suo materiale primario, la ceramica della fragilità dell'essere umano, della vita in genere e anche qui è un tema ricorrente che abbiamo in diverse installazioni senza che ci sia stato a codi fra l'uno e l'altro. sulla libertà, qui abbiamo delle gabbie e l'avremo a un altro posto e la fragilità dell'esistenza. Ora è la volta di Paolo Garofalo che ha anagrammato un po' il nome di Montegemoli, lui è un designer e quindi lavora proprio su queste cose originali e creative. Sul segno, sulla parola e sulla poesia, infatti sono anche due poesie in paese e qualcuno ci ha chiesto ma avete cambiato nome Montegemoli? Ho visto un cartello ma leggo momenti anche se è un posto dove leghiamo i momenti belli e l'anagramma di Montegemoli che si chiama sempre Montegemoli. Con Ursula siamo ora sotto le logge e Ursula ci presenterà altri artisti, altre opere. Sì, Libertà, l'opera di Uccio Biondi. Uccio viene da Brindisi e l'artista italiano che viene da più lontano e ha portato questa ragazza, questa scultura intitolata Libertà, Uccio Biondi, attualmente in una grande mossa a Roma e ha trovato comunque il tempo di spostarsi fino a Montegemoli. Sempre sotto le logge, un'altra opera installata su una delle pareti proprio delle logge stesse e ovviamente ce la presenta Ursula. Luigi Giulio, lo conosciamo già dalla scorsa edizione, sempre fotte di colore e ha portato quest'anno questo pannello pop. Marlene ci presenta ora l'installazione dei Santini del Prete, sono due famosissimi performer pisani, uno si chiama di cognome Santini, l'altro del Prete, hanno creato questa ditta, diciamo fra virgolette, ditta in arte, i Santini del Prete. Alle nostre spalle campeggiano le installazioni di Santini del Prete che di solito fanno una performance vestiti da ferrovieri, uno da capostazione se non ricordo male. Sì, anche loro hanno fatto all'inaugurazione qui un'impressionata performance con una banda, una cosa veramente divertente e importante per la nostra mostra. Marlene ci ha accompagnato nell'antico forno di Montegemoli per presentarci le opere di altri tre artisti. Sì, qui in questa stanza è Gianfranco Stacchi, qui l'installazione di Bruno Solo con Blumwald e qui invece aspetta Maria Burga che ha fatto un'installazione dietro da sé. questo è il mio lavoro e penso che il tema è la libertà e penso che non ci vogliono tante spiegazioni perché sì, ognuno interpreta quello che vede in questo lavoro. la mostra di Sergio Mazzanti è ospitata all'interno di una casa privata questa testimonianza di quanto la popolazione abbia partecipato a questa manifestazione. Sergio Mazzanti che attualmente vive a Carrara è nato a Ponte d'Era nel 52 ha iniziato la formazione presso l'Istituto d'Arte Passaglia di Lucca e già alla fine degli anni 70 realizzava le prime installazioni prosegue poi con performance video interventi su tematiche di forte impegno sociale. Enrico Pantani e Giacomo Saviozzi ci presenteranno la loro installazione a quattro mani Enrico Pantani pittore performer e musicista laureato in lettere è nato a Volterra nel 1975 risiede a Pomarance Giacomo Saviozzi fotografo professionista e autore di video in stop motion e libri fotografici nasce invece sempre nel 75 ma a Lucca era un po' che lavoravamo insieme nel senso lui come pittore io come fotografo e ci siamo sempre rincorsi nel senso e al Ken John ci è venuto in mente di dire perché non ci uniamo nel senso non facciamo una cosa insieme te che ti piace fare l'animazione dipingere ed io che lavoro con le immagini quindi è nata questa cosa che è praticamente completamente in stop motion sono 8000 scatti messi insieme e intervallati da animazioni completamente originale insomma nato dal niente e l'idea era quella di raccontare un paradosso e quindi la casina del mulino bianco ecco perché abbiamo fatto l'esterno con la casa il giardino i giocattoli e raccontare quello che c'è all'interno a volte delle case cioè non soltanto una casa intesa come mura ma la casa anche interiore e quindi abbiamo un fuori ordinato o ordinale nel senso con tutti i giocattoli e all'interno invece dove accadono cose insomma violente o comunque che sconvolgano rispetto a un'installazione così complessa così articolata e così piena di simbologie vi ha trovato sempre in perfetta sintonia o su qualcosa avete discusso no sempre in perfetta sintonia non c'è mai stato assolutamente nessun punto di vista divergente siamo sempre stati più o meno un'esperienza che vi ripromettete di riproporre ma sicuramente sicuramente è stata una bella esperienza e si è imparato tanto spero che piaccia questo è Tibo Tibo ha fatto questa installazione il titolo è Wood is our origine Food is our destiny e lui lavora tanto con legno e ha detto che questo elemento per lui è un elemento di legno è l'elemento dove veniamo tutti noi quasi e alla fine questa è un'impressione un'idea che abbiamo noi in questo legno e quando veniamo a terra lasciamo un po' queste idee e veniamo come sono questi piatti dove sono tutte le tracce del cibo eccetera e abbiamo lasciato siamo anche frenati un po' e dopo andiamo ancora in questo materiale di legno che si vede qui in questo arco con Marlene e Ursula abbiamo raggiunto il centro storico di Pomarance per la precisione siamo in piazza dell'Arderel e iniziamo dalla prima installazione che vedete alle nostre spalle l'itinerario all'interno del borgo antico di Pomarance vediamo l'opera di Emanuele Cazzaniga artista residente a Montegemoli che per questa rassegna si è trasferito qui con la sua installazione in che mani siamo infatti noi non sappiamo in che mani siamo esattamente ma siamo molto contenti di essere a Pomarance con l'apertura di questa nuova piazza grazie all'engagement del comune di Pomarance che ci ha proprio chiesto questo allargamento in compagnia di Marlene siamo giunti in piazza Cavour dove incontriamo Luigi Camarilla artista siciliano di Siracusa formato sia artisticamente a Milano centro della mia ricerca espressiva c'è il tema del Mediterraneo e la materia che prediligo per realizzare i miei lavori su questo tema sono appunto i legni delle barche che hanno navigato nel Mediterraneo legni di pescatori legni anche di migranti e questo è un tema che sottolineerò poi in merito a questa scultura il tema del Mediterraneo l'ho indagato in tre aspetti lungo gli anni la spiritualità il mito e il tempo presente questa scultura appartiene a un gruppo di opere alcune sono progettate altre anche realizzate su questo tema appunto il tema del Mediterraneo la scultura si intitola appunto Omo Mediterraneus perché così intende proporre come una visione sperandosi anche profetica della possibilità che in questa contemporaneità tormentata in cui il Mediterraneo è tornato al centro delle attenzioni della civiltà occidentale e c'è tornata per questioni anche drammatiche per i grandi movimenti dei popoli e le migrazioni dei popoli che purtroppo generano anche conflitti di civiltà in merito a questo la scultura propone l'idea che sorga un nuovo uomo Mediterraneo che alle sue spalle ha le sue civiltà iperboli alte come sono stato nel passato nel suo presente rappresentato appunto dall'uomo Mediterraneus con un occhio apotropaico che protegga la sua missione che è quella di creare di aver sintetizzato gli alfabeti delle antiche civiltà creandone uno nuovo che sia l'alfabeto della lingua della pace utilizzata da tutti i popoli del Mediterraneo sarà Ursula ora a introdurci nel magico mondo creato da due suoi connazionali Benjamin Blank e Claudia Kapp tutti e due di Berlino in Germania ma cosmopoliti nell'anima e viaggiatore Claudia ritorna da un anno a New York con uno stipendio dello Stato di Bremen in Germania dove ha lavorato soprattutto sulla felicità garantita della Costituzione americana e si è messa alla ricerca di questo diritto alla felicità garantita e le sue interrogazioni quella che vedete in questo momento è la seconda opera con la quale partecipa a questa kermesse Jacqueline Diffring che già abbiamo con un'altra opera presentata in apertura di servizio a Monte Gemoli Sì abbiamo già sentito quasi tutto questa è l'opera Cadere Alzarsi lei ha fatto tutte le sue teme della sua biografia lei non lavora per forme per questo solo per le teme sue Dobbiamo ringraziare Marlène che facendoci da guida ci ha concesso di entrare all'interno del teatro dell'Ardenel all'interno del quale ci sono due installazioni che ora vi proporremo però prima dobbiamo spendere Marlène due parole per questo splendido teatro completamente restaurato è una bomboniera un gioiellino dal punto di vista architettonico e un grande spazio anche se piccolo un importante spazio teatrale vogliamo proporre le immagini di un'altra installazione all'interno del teatro quella di Giuseppe Angela Campus artista di origine sarda che vive e lavora a Volterra tra il 90 e il 2009 espone numerose mostre personali e partecipa a collettive attraverso la Toscana ed importanti sedi nazionali e ora il microfono passa nuovamente a Luigi Camarilla che brevemente ci illustrerà un'opera così complessa ma i tempi a nostra esposizione sono ristretti sì a proposito del Mediterraneo su questo parco scenico sono installate delle sculture che sono i personaggi dell'Odissea quindi con questo ho indagato il tema del mito a proposito del Mediterraneo sono delle sedute perché quindi hanno forma di sedie perché la seduta è quella condizione di riposo che ha consentito nei secoli e ha favorito la trasmissione orale della tradizione Ursula ci ha accompagnato in un angolo di paradiso che ora ci presenterà in questo angolo di paradiso sono installati 20 elementi in lamiera scatolata e saldata di acciaio corten è un'installazione di Salvatore Fiori artista di Carpignano Sesia in provincia di Novara l'installazione si intitola dal lato degli inferi ed altri tropi qui siamo alla Canova e siamo molto contenti di avere queste sculture questa scultura arcaica del scultore molto potente che è Salvatore Fiori ci troviamo a ridosso del centro storico di Montegemoli per presentarvi una installazione una scultura di Org Mon che è qui al mio fianco ce lo presenta Ursula il titolo dell'installazione è 30 gradi e poi Org ci spiegherà nel suo italiano perché ha scelto questo titolo sì Org vive fra Berlino e Montegemoli da 5 anni è uno scultore dell'influenza teutonica si fa dire teutonica e fa dei lavori sia in acciaio sia in legno spesso moduli componibili che invitano anche a giocare Org come hai conosciuto Montegemoli come ci sei arrivato da turista la turista è così bella e ci siamo innamorati in questo paesaggio è molto bello e ci siamo innamorati subito di questo pezzo di terra quindi è arrivato da turista qua da turista e hai scelto da subito di rimanere a Montegemoli vogliamo chiedergli perché è intitolato 30 gradi questa scultura varum 30 gradi qui sono qui sono 30 gradi il angolo sono 30 gradi il nome è semplice semplice per una per una scultura senza senza domanda per me Marlene questa manifestazione non sarebbe stato possibile realizzarla senza l'aiuto e il sostegno del comune di Pomarance sì veramente questo mi fa un grande piacere di presentare Biliceri che è l'assessore della cultura del comune di Pomarance che hanno dato un grande sostegno non solo per il finanziamento ma anche per il lavoro che hanno aiutato tantissimo questo non si trova spesso nella zona e per questo siamo molto lieti e ringraziamo tanto uno sfondo una vetrina strepitosa per quanto riguarda lo sfondo ambientale ma anche una rassegna internazionale in questo periodo in cui il vostro territorio è visitato da tanti turisti provenienti da ogni parte del mondo sì senz'altro io sono io che ringrazio veramente Marlene e l'Accademia perché effettivamente offrono al territorio un'eccellenza io come avevo detto in sede di inaugurazione della Biennale avevo già nella prima percezione di due anni fa quando sono arrivato qui al Comune di Pomarance ha avuto la percezione di avere qualcosa di forte e quest'anno abbiamo avuto la conferma in questo periodo ci sono stati veramente tanti contatti quindi abbiamo costruito un percorso un percorso importante anche proprio all'insegna dell'arte contemporanea io come amministrazione crediamo molto nell'arte contemporanea come proprio mezzo di comunicazione l'arte contemporanea diventa veramente uno strumento per far pensare le persone per far riflettere sul presente e quindi veramente fatto in questo modo fatto in questo contesto ma fatto anche con la professionalità che contraddistingue l'Accademia e devo dire con il supporto importante della Proloco di Montegemoli è veramente una cosa un fiore all'occhiaro per il nostro territorio siamo giunti alla conclusione di questo nostro lungo viaggio ci rimane da presentare solo un'opera una delle più suggestive perché è collocata avendo sullo sfondo Volterra e tutto il territorio che la circonda sì è un'opera che Stefano Tonelli ha fatto apposito per Montegemoli e che l'ho dedicato ai suoi abitanti di cui ha vissuto intensamente l'anno scorso la generosità Marlene noi ti ringraziamo ringraziamo anche Ursula ora dobbiamo lasciare spazio alla musica anzi presentiamo subito i musicisti che fra poco si esibiranno dovete voi ringraziare anche la terza persona che con voi ha organizzato questa Kermess questo è Rebecca Fischer che fa parte della nostra organizzazione e anche Oreste Clama che purtroppo oggi manca fa parte in questa organizzazione noi siamo in quattro che fanno tutte le cose lasciamo presentare la parte musicale a Rebecca la parte musicale sarà Gwen Sampe e José José Benje al pianoforte benissimo a questo punto noi concludiamo il servizio da Montegemoli ricordando ai nostri telespettatori che l'edizione 2011 di Marte si concluderà il prossimo 18 luglio chi verrà a visitarla potrà ritirare il catalogo con tutte le informazioni sugli artisti che espongono sono tanti sono 28 troverete notizie critiche e biografiche anche la riproduzione delle opere che sono disseminate nel territorio di Pomarance di Montegemoli della Canova e di Querceto di Querceto di Querceto No